Sarà che non ti vedo e questo mi ha fatto un bel regalo di Natale a tirarla fuori ci ha fatto un bel regalo di Natale non ti ha fatto un bel regalo di Natale stupenda, stupenda è vintage, è 190 è SL è teotonica, è scappottata è romantica fascinosa, di valore e valorosa, è stupenda e a Natale l'ha tirata fuori scappottata e onzettata, così come fanno loro, a noi ci piace così a noi ci piace a noi ci piace da farsi il culo e da tirarle fuori favola, vedi quanto sono buone le donne nostre sincerità si, non farne male stupenda, complimenti clamorosa clamorosa è bellissima sono contentissima e poi lo smetticiamo dai spazio alla modernità vi immaggia lo rispetto ma cosa è briciata? non è leata? è vigiliata? bella per te bella per noi famosa al culo smetteremo da chi si conosce smetteremo da lui è una regola semplice non c'era un genio ma potete anche te bella per te auguri eh viva la vita manco